e bella a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale per un nuovissimo video gameplay riguardante squad allora questo video proviene da una live stream che ho fatto esattamente martedì sul mio canale di twitch che ricordo per continuare a seguirmi ragazzi il link lo trovate sotto nella descrizione il si può creare un account di twitch completamente gratuito quindi non spendete assolutamente niente per continuare a seguirmi direttamente in live sul mio canale di twitch cliccate sotto nel link e andatemi a iscrivere anche lì mi raccomando ragazzi perché sto facendo ultimamente le live lì perché è una piattaforma personalmente migliore per le live e in più come in questo caso riesco anche a scaricare le live precedentemente e ricaricarle su youtube per farci direttamente dei video come dicevo questo video viene dalla live di twitch durante l'evento italiano stesso po stessa ora sul server di itaengjoinsquad.it quindi nel server di squad italiano della comunità italiana accompagnato dai ragazzi dei gsi quindi uno dei clan italiani mi raccomando ragazzi se il video vi piace lasciate un bel mi piace condividete i vostri amici per farvi sapere farmi aiutare a conoscere il mio canale in tutto il mondo di youtube twitch e vi dicendo e commentate qui sotto ditemi la vostra cosa ne pensate e mi raccomando iscrivete il canale twitch ragazzi vi lascio al video bella ragazzi è bella lì del live qui sul tuo nome profilo nella dashboard ci dovrebbe essere qualche stream squad stream nel mezzo sperando che non si veda non abbiamo bilanciato alla prossima no è detto divertente come aia un po' di per denti lice e muoio fino a più di altri no gioi dentro quella porta tira una ganata prova a porno aia andiamo con gioi dentro la finestra a 1 0 3 ok sto perciando c'è un po' di per un po' di per sono tutti feriti sono uno a terra minchia è un po' di per un nemico con una montagna dai vincas la montagna a su dove prova a appaggarti prova prova dai dai ok minchia è HAHAHAHA Cosa ho? Scrapker fu la strada, vissi una mia posizione Mienchi, a emo? E' una scaldica, ora o' una scandra? sembra una scavola quando spara ascolta Sandor tu vieni a vedere guarda vado a caricare che casino c'è qualcuno caricato si lo vedo che arriva c'è uno subito a sinistra della porta dove l'hub mc dovresti fare un altro giretto se ci riesci no negativo stiamo qui mi hanno fatto ma tu che casino grazie no 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 la scatta è la loro abel giù ma la scout che era sceso un tipo e si è fermata lì non so chi ha ricevuto? di bling in 10 eh lì prima poteva approfittare della smug per provare ad entrare ma la vedo dura come sono messe le altre squadre? ragazzi ragazzi sono contatti sulla mia mi hanno stessa arrivo ragazzi diversi contatti di fanteria a sud non è in corso non è in corso non è in corso ma non è in corso guarda mi hanno pizze e potrebbero avere avevano logiche di acqua l'ho pezzagliato e si è spostato minchia ma guarda è morto è morto è morto mi raga ho più a sud sulle alture a sud dove c'era l'hub perché ci sono diversi contatti di fanteria ok ci sono ancora con patia all'interno malabiti ah no non è morto tu cazzo ho creato una granata ho provato di poco faccio fu di fronte a te ovvio di fronte a te dentro occhio gli angoli ok gioiti altri ok ne ho uno dentro questa casa eh su nell'angolo c'è qualcosa di grosso che mi ha tirato qua dentro uno eh ok c'è uno qua dentro eh non c'era riuscito a vedere neanche che cazzo fosse e ora la scatola ok libero qua dentro qua dentro il libero libero entriamo entriamo non cazzo non c'è nessun cazzo tu fai ma il wave non cazzo non c'è la nazionale tra cazzo Perché tanto mi servono delle cure Arriva lì, ragazzi Sì, ma mi servono delle cure, se viene qui mi faccia tutto il giro Bisogno di munizioni? No, tranquillo, a posto, mi vado a prendere a Brady È stato un po' di casino, eh, qua Guardate, per la sicura, adesso con calma Facciamo result tutti quanti sul move marker Ma è di più? Che tupane? Ascende da lì Ci vediamo sul move marker Raga, occhio, occhio Sul rally, contatti molto vicini al rally Facciamo la gru veloci sul move marker e aspettiamoli da lì Gira l'hemrath Minchia, mi tirno Sono senza bende, eh Ok Ok Sì, ma mi ha tirato una granata L'ho colpito Né sotto le scale e nel buco Sì, sì C'è uno spand... Spandrel asciutto Asciutto Ricaricavi? Sì Occhio Sì 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 È un tipo sotto le scale Morto Eh cazzo Presumo di sì 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 Eliminato Tieni fuori il maggorato di Maria Sì 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 Ero Ero Sì 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 No Ok Una terra Ricarico Eh Non l'ho più bandido io eh Eh, ci credo, un colpo in testa! Per cazzo che cosa c'è chi? Ricarica il labbra che non ha l'esplosione Ok C'è un pregio al volo C'è un cerchino, è sulla rialza qua Non credo di averlo più qui Grande bomba Ah, non lo so Un cerchino persa Era un draco Era un draco Era un draco Vedetevi, devo baciare Credo che fosse lì, dovrebbe averlo buttato Eh sì, siamo una merda Mi teme angusta di fermarsi A RPG sulle alture, tutto intorno Posso andare in barca? Ma se lo voglio Puttana troia, è vero? Anch'io sono engineer, cazzo! E si ricordava più Aspetta Ti do una mano, aspetta C'è cazzo ragazzi, sono engineer Manco mi ricordavo Cazzo, no Dobbiamo riuscire ad avanzare e prendere la collina Ho tentato, non rispondo all'alto rally Eh, su mixer sì Pronto Tenti Tenti Non è modo Ground, grazie Siamo tutti noi di farlo più Instagram Sì Ok, il veicolo a posto eh Non perché mi piacciono gli americani Forse al prossimo giro Ma... Switchiamo al prossimo giro Eh, vediamo Ma non ci siamo riparandone Possiamo switchare il 9 Quindi lo troviamo pure qualcuno dall'altra parte switch Ma io comunque errori una volta l'avevo fatto con un amico mio con Alberto E mi aveva invitato e funzionato Però non so se è una cosa solo Non so se devi essere... Cioè devi essere partner pitch Cioè devi essere partner pitch Oppure no Citazione esatto Eh sì perché è la corsa che inizia prima Probabilmente lì non c'è nessuno Loro si intruplano tutti per essere più mic Non è così che funziona Non è così che funziona Non è così che abbiamo bisogno Niente ostili Niente ostili Niente ostili Ostili a me Uno è battuto E ha give upato istante Ostili a me Perciò lasciate che gli ostili vengano a me Non lo stai chiamando? Esatto Hai numero... Ostile! Sto spada arriva a me Una persona scoria ma fate sto mixer, personalmente non so cosa sia si, questa è la battaglia della bulgaria un po' così pesante minchia molto pesante il cazzo comunque voglio conoscere i minimi abiti che hanno sparato la scout card K2 sta sparando lontano però sono morto vedo contati a 2.07 sta sparando il barattolo si stanno avanzando in massa ma cos'è la rivoluzione storica russa Dio mio che avanzano correndo a piedi in mezzo ai campi non ho capito però ci sarà appena la backflash quindi un'epicina già va ah stanno catturando fantastico ma c'è una posta tanto vai ce la fai? a tirarmi su che c'è una posto a me l'ha non capito c'è una 50 fissa in cima alla collinetta dove sta sparando e bene praticamente ci sono i contatti che te ne ha battuti sono in 2 hanno sbiancato l'alba flag eh e non c'è ancora il contatto città portai da qui un bel spazio non mi vedono ma adesso sono contatti su adesso le montagne mi hanno cecchionato scendiamo da un po' fiume vado dal mio americo non ti preoccupare che è davanti contatto davanti ragazzi davanti 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 a te joy i contatti che cecchino non sono su spazio non ha spazio ma non su obs proprio su su twitch sul sito di twitch nel tuo profilo sulla dashboard di twitch devi andare a vedere non su obs grazie jo ah già dimentico giusto puttana troia quello russo non l'avrei visto davanti la faccia cazzo bene poi micchi certo certo leo aspetta chi era il vostro nuovo squadra? leo chi era il vostro nuovo squadra? adesso mi hanno promosso ma a cacare scusate dietro puttana troia stanno piccando dalla collina io ho l'ultima venda tiro sul medico ma è il numero 7 io no era qua sotto piccata da qua puttana c'è il motivo in cui mi alzavo no 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 raga andate sparando a me sparate sparando a me sperate su leo e andiamo dobbiamo muoverci ma c'è un posto da voi raga no no eh eh sanno bene eh sanno bene mica l'ho popato in testa grazie ho fatto una killa a 200 metri non puoi sicuro è mezzo nemico si 192 oh uno davanti a me davanti a me disteso occhio occhio che è vicino a me vicino a me occhio che è vicino a me o Bradley si con la modalità raffica ovviamente perché sono troppo vicino per fare il perché è il supporto della Cisano in 30 ora cosa non abbiamo un Bradley eh no è che quello che aveva da soli cerco di fargli le gomme no no non piccare leo leo non piccare c'è un mg con l'ottica guarda med andiamoci sul fiume andiamoci sul fiume guarda med da solo se ne va prendiamolo e avviciniamo aria grazie bomb madonna mi hai copiato 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 manca con 30 se prendiamoci la bassa nel fiume avanziamo ok ragazzi bassi che sparano sopra in cima alla montagna non attraversate tornate indietro ma che fanteria 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 stessa montagna minchia colpito minchia colpito colpito che tipo di veicolo è? aspetta che tipo di veicolo era? non esiste più qua adesso forse un BTR 30 sono fatti sulla stessa bollina la smoke rossa cos'è nostra? la smoke rossa ragazzi è la nostra la smoke rossa è la nostra non esiste più ma che parla di con me non esiste più sei sei volevi che mi hai detto qua ragazzi il bravo è in vacanza non c'è però sta tirando abbastanza l'orinchio io non capisco quello che mi dici ragazzi il bustacca secondo me è ragione ci viste indietro più devastato io ci sono molto vicino sul mercato andiamo allora non ti vedo il senso del collinetto madonna questa me la ributto su youtube trovo bella minchia minchia fai mc sulla collina dove si trova la foglia ove sulla collina parolunga questo marker queste cose cazzo obblizzato no? cristo puntatti vicino alla mia si con il fondo su un marker non riesco a posizionare il bipode in posizione il medico dove è il nostro? ok dietro il medico guarda questi sono buoni che faccio Joy? prova a tirarti su a vendarti? buonissime cazzo prova Joy eh vai stai con calma ragazzi il fortino c'è al compramo almeno una decina ma vaffa basto di munizioni ragazzi ma gli ultimi dobbiamo sbicciare dall'altra parte adesso ma che di là se la stanno cavando ma siamo avanti dei due flag ho una una noi ne abbiamo quattro loro ne hanno due tecnicamente ce ne sono sei non ci provare bitto sembra che le stanno cavando eh però c'hanno i bleeding mezzo nemico Joy davanti a noi eh due uno set due 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 da dove? da dove? puttana troia c'ho terra ragazzi abbiamo dei russi in mezzo ai campi senti la sciamma sono tra di loro grazie Django buono mezzo di nord ovest vicino puttana c'è una bende ragazzi io sono senza bende passate dal fiume non passate dai campi guardate sul l'occhio è stato bello lord combattere con te resisteremo fino alla fine mi ha fatto il mezzo occhio è all'inizio del ponte dal loro lato no dal nostro lato prendiamo posizione in questo quasi difendiamo sto compound aspetta è passata qua davanti è passata qua davanti una squadra di squadra sud est vai 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 e ti viene su testo dalla parte del fiume poi da ragazzi c'è il rally della tazza addosso lo mandi al scelatore raga ho preso uno dell'equipatore della scout quanto ha il rally? scout si chiama il rally che fa un po' io 50 vanni c'è raga vi saluto che devo andare lì bella ciao ciao però si passa sulla strada guarda la butta giù si ci lavoro per venire a prendere una io vedo un botto di contatti le beggi ci falce appena spawniamo dov'è? inizio del ponte dal nostro lato però mi ha ucciso una granata dentro bene il lato si dice per squadra bella bella gioco tutto un casino è serio mentre la tazza c'è il disagio esatto esatto a 4 kg una volta morto che mi ha arricciato sempre ho visto operation first light attrappare vè la tazza c'è il